La richiesta d'aiuto e poi l'intervento in via Benedetto Varchi nel cuore della notte, la notte in cui Giovanni Shamm uccise la compagna e la suocera. Attimi terribili ripercorsi questa mattina in tribunale di fronte alla Corte d'Assise. Prosegue così il processo per la morte di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi con l'audizione dei testimoni. Ascoltati due agenti della Polizia di Stato, primi ad intervenire sul posto, poi il medico legale Mario Gabrielli che ha descritto la ferocia dell'assassinio consumato sotto gli occhi dei figli della coppia. 23 le coltellate sferrate contro la compagna, 3 invece quelle che hanno raggiunto la suocera. Ed infine l'allora comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Arezzo. Il livello emotivo è molto pesante, trattenere il tutto dentro, però abbiamo speranze e fiducia nella giustizia. La difesa di Javad Disham ha chiesto di sottoporre l'uomo a perizia psichiatrica, richiesta alla quale si è opposta la pubblica accusa e le parti civili e che è stata reggettata dalla Corte. Per quale motivo? Basta vedere che è un escamotage per avere una diminuzione di pena. L'ostruzione dei fatti, poi come emerge dagli atti processuali, si rileva in tutta chiarezza che l'imputato al momento del fatto, nel posto immediato, era pienamente lucido, orientato, capace di intendere e di volere. L'ha telefonata al 112 alle ore 1.03 dimostra la sua piena consapevolezza quando ha detto commesso un reato enorme, vi ha benedetto Varchi, correte veloce veloce, quindi percezione anche della gravità dei delitti commessi. I due figli di Sara e Javad, un ragazzo di 17 anni e una bimba di due, si erano costituiti parte civile, come procuratore speciale il nonno.